i nostri amici ranger a bordo dei loro quad sono impegnati in una nuova missione ritrovare lo zainetto perduto non sarà facile ma per fortuna hanno un aiutante speciale il grande cervo seguici e vivi con noi una grande avventura lo zainetto perduto emma e federico i nostri amici ranger del parco naturoso trovano un messaggio attaccato alla staccionata la piccola anna ha perso il suo zainetto unicorno oh no come faremo a trovarlo il parco è davvero enorme tranquilli ragazzi anna ha segnato i luoghi in cui è stata il prato dei cervi il pienile e la casetta nel bosco in sella piedini sull'acceleratore e iniziamo le ricerche emma e federico andiamo subito al prato dei cervi ciao cervi avete visto uno zainetto a forma di unicorno mi dispiace niente zainetto e nessun unicorno da queste parti peccato continuiamo la ricerca prossima tappa il pienile qui si fermano a mangiare tutti gli animali del parco e anche i bambini per fare i picnic vediamo vediamo nel fienile non c'è e neanche qui intorno uffa manca solo una tappa la casetta nel bosco andiamo eccoci arrivati la casetta è nel punto più alto del parco e ha un custode davvero speciale bisogna chiedere a lui il permesso per passare ciao grande cervo stiamo cercando lo zainetto di anna l'hai visto per caso no non l'ho visto però potete passare lo zainetto non è nemmeno qui ma dalla casa nel bosco si vede tutto il parco dobbiamo tenere gli occhi bene aperti non può essere distante e infatti eccolo laggiù lo zainetto è sotto la grande quercia forza amici di nuovo in sella e via trovato guarda guarda dove aveva lasciato il suo zainetto anna sarà felicissima e anche per oggi missione compiuta evviva scopri tutti gli episodi di giochiamo davvero